c'è qui che si sta avvicinando il nostro leonardo e finalmente ci rivediamo come conduzione a lei è fissa lei ti lascio il tuo pensierino carlos e ci stai ascoltando ascolta bene perché questo speriamo pensierino sull'ottusità altro giorno ho incontrato un mio amico dice leonardo io ti ho visto per televisione un complimento tu volevi chiedere una cosa da vicino dice visto che tu lo contatti ma che ti paga la sangue non mi posso lamentare ma è un tipo sociale mi posso lamentare ma è una persona alla mano non mi posso lamentare ma è una che paga ma allora si scema non mi posso lamentare se no me ne caccia ma quando è brutto l'ottusaggine allora sei il presentatore 24 le lamentele e 52 l'ottusità ripeto sei 24 e 52 amvertendo su tutte le ruote ci vediamo domani sera alla stessa ora siamo fanno venire buonasera